Gli siamo mancati, eh? Secondo me, no. Mamma mia. Ma io che vi toccati fa oggi. Per la cronaca, io non so se porterà sfiga, ma questa app Sharpa l'ho presa proprio contro questi qua, no? Simboleggia? Ero proprio con Cristian, non so se vi ricordate il ragazzo di Juventino. Simboleggia quando gliel'abbiamo sbattuta in faccia. Ora, porti sfiga o meno, dovevo farla vedere. Va de retro, va de retro, va de retro. Che è sta roba, via? Va de retro, va de retro. Non c'è il tri niente, non c'è il tri niente. Va de retro. Di nuovo, ogni volta che c'è la partita dell'Inter, lui si metterà mai nel via. Avessi mai chiesto a Michele Gianni di smettere di scolpiri su David? Ma c'è il problema che questo non è un David. Questa è di più. E anche stasera si tiffa il meteorite. Forza, ragazzo. Ale, 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 meteorite, ale. Forza, lotta, a te le raggi. Si può dire che chi passa da questa sfida e ha vinto la Coppa Italia, si può dire? Magari no, eh. Però... A me mi pare che tu vado in fianco a Betelso. Si, lo so. Ma non è campionato, quindi... Una gara secca. Penso che l'Inter sarà più facile aggiungere nella finale di Champions League di quella di Coppa Italia, secondo me. Però vabbè. Ma Bremer dovrebbe giocare per voi. Chi? Bremer dovrebbe... Si, infatti, non me lo spiego. Perché Bremer è bianconero? E Dybala l'avete in panchina? Si, ma è rotto Dybala. Mentre non può giocare. Ce l'ho nella cantina di mio zio, insieme alla Play 6. Ma, guarda così, no. Ma perché tu con stemma della Champions League è diverso dal mio? Non le ho la più pallide di Dio. Ma non, ma che cazzo ne so, sta maglia qui. Non l'ho presa io, proprio. No, se lo faccio, no. No, no. Ah, eh, l'ha fatto la battuta. Guarda che non è che siamo a zero, eh. Vuol dire. Non c'è una poverella. Una spintina. Svegli pizza. Bello, bello! No! Io davvero, che è successo? Noi rimessa dal fondo per la Juventus. È una ciccata. Sì, il Corriere della Taro l'ho vista, ma Zeko che cazzo è successo? E però ha truccato l'appuntamento col Pantano. No, che merda. Gli ha rimbalzato addosso dopo. No, non è che è la ciccata. Era troppo, era troppo là. Però, buon atteggiamento. Ci sta. Se giochiamo così, sono qua. Potremmo tranquillamente inserci in il finale. E dopo tre minuti... E avete perso col Torino. Che non salta Bianco Nero, eh. Il Meteorite, scialalalalala. Il Meteorite, scialalalala. Sì, sì, a dopo. Il Meteorite, scialalalalala. Vabbè, ma quando giochiamo noi, è San Siro. Quando giocate voi, è San Siro. Ambedi, sto coglione. Spiace. Oh, porca... Oh, Ida. Ma ragazzi, ma non giocano a pallone. Dio buono. Questo non è giallo, eh. No, figurino. Quindi, sai, sarebbe bello cosegnare adesso. Sarebbe veramente divertente. Di Marco dalla panderina. Tagliato a rientrare. Primo palo. Bastoni. Fistica su secondo per Dufris. Un paio di perno. Quattro come se... Sì, vabbè, poi. Marco corre un fuorigioco. Il Turco non ci va. Barella. Bello! Sì! Mamma mia, che buco. Cotto come un porco. Dai, dai, cozza, bravo. Madonna, che buco. L'ha toccata con l'esterno. Ha spiazzato per il... Madonna, che buco. Bell'inserimento, bell'inserimento. Madonna, che buco. Però devi anche essere bravo a sfruttarlo. Se no... Sì, ho capito, ma sempre brilli. A quel punto lui si va alla centrale. Grandi, ragazzi. Guardate i fermi. Regularissima. Ma vabbè, è regolare, certo. No, ma perché sai, mi piglia male a volte, eh. Sai le palle lente di biliardino che ti entrano sempre? Questa. Ecco, com'è che fa Allegri? Calma. No, stiamo passando dopo il gol, non ha partito piuttosto di contenimento. Non hanno ancora tirato, quindi per ora... Ci sta. Ehi, vai, ma in aria... Si perdono. Mi ricorda qualcuno. Specialmente se ne hai bisogno. Oh, no! Controllo, chiude l'esciglio. L'esterno per Locatelli, la pressione di Lautaro. Il PSG non è... Puff! Madonna, ma che buono sono sti qua? No, di quanto è uscita? Non ha scoperto il pallone... No, ma io se non, diciamo, contro Juve il campionato... Rosico Bagliassino. Ma lei ci ha vinto. Si, una volta. Lo a zero, no? Quanto è? Lo a zero. Eh. Che poteva essere molto di più. Si, me la ricordo. Li abbiamo voluto bene. Signore, ah! No. No. Signore, Tomori... Tomori! Sì, è strano, ma ancora non abbiamo preso un tiro. È quasi andata meglio. Ci sono così scazzi che mancano più frittura di vostro... Non è un po' di fanno cagare il cazzo! No, per ora che posto da questo... Ecco all'altro. Ora vant'era il rigore. Lo seguo, Locatelli va fuori da Alessandro. Può crossare Alessandro in area di rigore. Palla al centro per De Sciglio. Che anticipa... Del gol di De Sciglia. Spera la gol di De Sciglio, ragazzi. Io smettevo di vedere la partita adesso. Proprio non è possibile, eh. Sarebbe veramente il colore. C'ho la testa, lì pina se fermo, guarda l'ho tirato. E l'esterno l'estra che va a chiudere. Prende completamente il tempo a... Eh, però aveva preso il tempo. Guarda mentre qui di Maria fa di Maria. Salta due uomini. Maria fa di Maria. Che bisogna fare per allungiare? L'ha anticipato, secco, l'ha steso. Porca troia. E di Fideo. Ah, perché... Non si può dire di Fideo? No, spoglietto. Ma veramente? Non si può dire che... Stavano attaccato alla porta dell'Inter e scuosso. Favorisce bastoni che arriva in zona cross. 100 sul secondo palco. Eeeh? Per far un gol della Madonna. Eeeh? Cioè, il bastoncino che stava per far un altro gol da Deer. Arriva sul fondo, cross arretrato. La palla è per... Tira, tira, tira. Eeeh, va bene, va bene, va bene. E pensa che per un rigore legato da Brenner, per un rigore legato da Brenner, quello... Si, non c'è. Non c'è, non c'è. Non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, è assurdo. Quanto ho potuto. Mi sembra, un inese, mio un inese, il nuovo anno fa, Stryker Latz è da Salto. Ulti, Latz. Da nulla, pensiamo alla palla così, come gestista. Sul 1 a 0 più l'unese, al 94esimo. Ma lì ti scuregi a cervello, perché non si capisce che succede. Eeeh, le tv si spensano sul 4 a 0 là. E in Corea sanno che quel mondiale l'ho vinto Tipo il cartogallo non so se era quello 10 Ha un minuto Però è un tiro strano Ah Era deciglio Sì ma direi di conto conto Chi stai giocando Vabbè vabbè perché è deciglio No Adri sono in bambola adesso A quel momento È normale succede a chi Come sono scherzi Dai fai la finita La devi dire solo perché è contro di noi la Juve Se no non avresti idea Stavamo giocando male dai Sì Sono un po' in bambola Ma non sono scherzi Non sono scherzi La Juve non è scherzi Cioè giocare male e lasciare scherzi Non ci fosse nessuno Sono due cose diverse Ma cosa state rischiando sta partita Dai Per adesso niente Ma basta solo una cena Anche una carambola Una stronzata Ma vincete in ciabatto Salite subito Subito Ma faccio idea di allenare Oddio Bello Ecco diciamo che l'autano non deve crossare Deve sta in mezzo Perché? Perché? Fine Va bene ragazzi Va bene così Ricomincia Si ricomincia ragazzi Per la scelta Perché non mi dedica a 26 aprile Buongiorno Vabbè E non riesce a tirare Cioè vedi Mi chiedo Ma sai che giocare al pallone Sono scarsissimo Perché sono Un titonaccio Però ti chiedo Cazzo Sei il limite dell'area Come cazzo fai a mandare la palla in curva Cioè ci dà delle gambe Di perché fai mandare la palla in curva Buttala via La devi spazzare Questo sarà un meme Palle Se io non ho cosa parlare così Non caccio Sarà un meme Probabile Quando aspetti Tornici sono Spreggio Peggio Che la palla È vero Per me è così È buona Oh mi sa che è fuori gioco Non può essere male Sposta palla al post dietro Si ferma Diego Satta Bremmer Va col sinistro È un gol straordinario Ma è un gol in fuori gioco Che gol che aveva fatto bro Tra sticca Dio Be Ma infatti se l'ha fermato Perché lo sapeva Non l'avevo schialato Sì Vabbè Al par Bremmer E l'indeprensibile Bremmer Dal z Mamma mia Il vocabolario di Trevisani In questa partita Illegale 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 Solo paglia di vera azzurra intorno Tranne quella di De Sciglio Bianco Nera Un gliela passi Vero Un gliela dà Bravo Luca Forte eh Mamma mia Ha fatto male Barella Sì Attenzione Ha fatto male Barella Sessore della gaffa a destra Marco Barzaghi Sì Subito il cambio No E che ora lo fa entrare a Gagliantini Sa vedere Un mese fuori Un mese fuori Un mese fuori Meteorite Sia la 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 Pov Secondo me Calabria Il possedio di Ciglio Avrebbe fatto meglio Poi entra che Andreeva Finita Abbiamo perso Ma non c'era bisogno di fare Un lancio così enorme Un leader Ma cazzare tutto è solo Perché devi fa Boh Che cazzo Ah giallino Finalmente Dio bene Ma vabbè Barella Un pochino rinomato Queste cose Eh Un po' va detto No ma stavolta C'è Senza proprio Inevitabile Ma non fanno un cazzo Eh ma è proprio quello Anche noi Se siamo un po' lì Aspettiamo Poi quando abbiamo parlato Ricominciamo Ma lentamente Non mi garba così La caca Un po' l'opinion Se Giu Corresse Quanto vuole Giacomo Poi Non è che corra tanto Eh insomma Anche prima Qualche scatto Ma nulla di più Eh ma dribbling Lo fa insomma Poi Colpo di testa Mi tengo tutto Quello di giro Sono giusto Che la parola Nella mia Non ci provo neanche Ha raccattato Più pallone Stasera Che La sera Sa anche Del sud C'è L'amanzatina C'è Mi vuoi dire Che 65 Giu Ha fatto giocare Bollucci Per moffaggio Annanino C'è mezzo C'è lei che Sei illegale Proprio Poi si firma Riparte Vada Dufris What In che senso Dai metti in mezzo In mezzo subito Dio Pist Dio Peccato L'hai visto Bene Perché Non lo rifaccio Esatto Il mio lavoro Che ho finito Non l'hai fatto Niente What the Fuck Forte Ma finisci qua Fanno un tiro Fanno uguale Eh no Ma è quello Che succede Nella vita Guarda Parca Futtana Guarda Lì Che Pidonacci Dove Rimmiglio E questo è bello No Di Marco Magari Cercerà il piede di Marco E questi stanno anche giallino Paredes In effetti poi Si chiamano Perché non gioco mai Paredes La passa Non è bianco nero A tenere viva la Juve Non è vero Ti ha tirato In Italia Posizione regolare Ce l'avessimo noi Teri il secondo portiere Eh Eh Fino alla fine Juventus Ferda Mi aspettavo le botte Si o stavolta Veramente Nessuno Nessuna rissa Ma sai perché Perché non c'è quadrato Ma non è la rissa Il gol E la parola di prima Basta Oh no Vabbè Avete fatto subito Gli altri Non l'hanno fatto Niente Avete già vinto La coppetta Ma sta zitto Ma che c'è Ma no Basta Basta Pietà Dio mio Ma non si può Ma quello non deve vederlo Neanche il campo No Dai dillo Deviazione illegale Dillo Illegale Quello sterno che ha il suo cuore Rappresenta il disonore La sconfitta e delusioni Sempre solo umiliazioni Osoneri siamo noi Ma chi cazzo sente voi Ebbene io che l'ho continuato Intervista va a far culo Intervista di merda Lo cantate anche da soli Intervista di merda Anche da soli Non proprio Da una vita Non cantiamo Sei la merda di Milano Cioè Migliora il campo della Juve Forse il portiere Forse Mi prego Facciamo 2-0 Che è più marcato È più bello Bastoggiato Riesce a uscire col pallone Che è breve Però rovina Da terra Poi gioca Si sono buttati da soli Voglio il gol a destra Che pidoni No E allora la rabbio 2 se ne so dai 2 ne mancano Pappati Ciamat 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 Mette il pischietto in bocca Doveri E fiska la fine del match È l'Inter Che andrà in finale Questa scelpa porta bene Quasi quasi Allora Non so se si legge Qui c'è scritto I am winner No Ma di cosa A Casina Arcasina ragazzi Di nuovo Lei ci si vede tra poco Arrabella è un'altra partita E adesso compi Cicchiatemi le parole